Su le mani ragazzi, si, si, bene così, anche in fondo ragazzi, tutti su le mani, anche lato che c'è con le luci verde, è così carini, è così pagani, bene bene. Ora è difficile capire, quando un linguaggio ci possa aver fatto intuire, di quello che vogliamo dire, lo avremmo voluto inconsciamente, di quello che vogliamo dire, lo avremmo voluto inconsciamente. Scasca! 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 Grazie.